ci troviamo nello showroom della concessionaria bmw l'automobile noi vi vogliamo comunicare che siamo ripartiti e in ottemperanza a tutta la normativa siamo pronti per accogliere in totale sicurezza tutti i nostri clienti abbiamo adeguatamente sanificato tutte le auto nella nostra gallery abbiamo predisposto tutte le postazioni con gli schermi in plexiglass siamo dotati di kit di mascherina e guanti per i clienti che arriveranno e che ne saranno sprovvisti anche le chiavi sono state tutte e sanificate e isolate ognuna nella sua bustina e questa bustina verrà cambiata ogni qual volta si userà la chiave un saluto a tutti e speriamo di vederci presso presso i nostri showroom grazie a tutti